Nel periodo a cavallo tra 800 e 900, Napoli fu protagonista della vita artistica e culturale italiana. Nelle sale del caffè Gambrinus, inaugurato nel 1890, si incontravano letterati, giornalisti, uomini di cultura e artisti del tempo. Fra i frequentatori più assidui c'era Gabriele D'Annunzio, il quale collaborava con un quotidiano napoletano ed aveva pubblicato con l'editore napoletano Bideri il suo romanzo L'Innocente. La canzone napoletana viveva con Salvatore Di Giacomo la sua stagione d'oro. Si racconta che proprio nelle sale di questo famoso caffè, sollecitato dagli amici poeti napoletani, D'Annunzio abbia scritto i versi di Avucchella. La canzone fu musicata da Francesco Paolo Tosti, anche egli abruzzese, ed ottenne subito un successo clamoroso. La canzone fu musicata da Francesco Paolo Tosti, anche egli abruzzese, ed ottenne subito un successo clamoroso. La canzone fu musicata da Francesco Paolo Tosti, anche egli abruzzese, ed ottenne subito un successo clamoroso. La canzone fu musicata da Francesco Paolo Tosti, anche egli abruzzese, ed ottenne subito un successo clamoroso. La canzone fu musicata da Francesco Paolo Tosti, anche egli abruzzese, ed ottenne subito un successo clamoroso. che vanno a bruciare non voglio morire a passoli a terra Sì, d'ordine la bocca non voglio morire a passoli a terra non voglio morire 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 non voglio morire